Buongiorno a tutti, ci troviamo in uno dei tre punti che abbiamo destinato alla piantumazione del bosco in città, progetto portato avanti dal comune di Abertegrasso con l'ente finanziatore che è il parco del Ticino e l'ente attuatore che è l'ERSAF, ente regionale delle foreste. Qua ci troviamo in un angolo sperimentale perché sono state piantumate arbusti e piante a seguito di studi fatti dall'Università Bicocca di Milano per controbattere il cambiamento climatico che perlomeno nella nostra zona ci ha visto i protagonisti negli ultimi anni con tombe d'aria e con quanto ne è conseguito, il che ci porta a pensare di non poter più piantumare alberi d'alto fusto, perché poi negli anni diventano meno resistenti a causa di queste intemperie. Questa piantumazione è stata fatta da ERSAF che curerà le piante per sette anni e che andrà a sostituire quelle che naturalmente durante questo periodo potranno morire, potranno subire dei danni. ERSAF stessa provvederà, come dicevo, al suo mantenimento, ad innaffiarle, a tenere il verde in un modo decoroso e qua abbiamo piantumato circa 400 essenze, tra piante di nuova generazione, come dicevo prima, studiate in via sperimentale dall'Università Bicocca di Milano, che è nostra partner in questa esperimentazione. Ci troviamo nel secondo punto di piantumazione, questa è la parte alta a confine di via Saba, dove ci sono praticamente sempre delle piante studiate dall'Università Bicocca e sono in fase sperimentale di piantumazione. Diciamo che ci troviamo nella parte alta, su una superficie di circa 6.000 metri quadri, dove sono stati piantumati tra arbusti e piante di vario tipo, di vario genere, circa 1.000 piante, per l'esattezza 994. In fondo alla via invece c'è un'alteriore piantumazione di piante di arbusti tradizionali della nostra zona, di altri 16.000 metri quadri, dove sono state piantumate 2.660 piante. Allora, una curiosità, queste piante sono state piantumate in questo modo a cerchio, con un invaso abbastanza ampio, per sfruttare l'acqua piovana che in questi giorni non manca sicuramente e con questa acqua piovana la pianta si autoalimenta per conto suo. Qualora incorressimo in periodi di estrema siccità, allora ci sarà l'intervento di Airsaf, anche qua abbiamo un contratto manutentivo di 7 anni, dove durante questi 7 anni, oltre a mantenere l'area perfettamente rosata come la vedete a verde, provvederanno alla loro innaffiatura e provvederanno alla sostituzione delle piante morte. Il contratto è stato fatto in modo abbastanza, con tempi abbastanza lunghi, perché nei 7 anni ormai il nostro bosco si è creato e dovrebbe apparire a tutti come realmente è un bosco in città. Adesso, se vogliamo, possiamo scendere a vedere l'altra piantumazione, quella tradizionale, dove ci sono ciliegi, ci sono roveri, ci sono diverse tipologie di piante tradizionali della nostra zona, ma comunque, come dicevo prima, non ad alto fusto. Allora, qua ci troviamo nella parte bassa di Via Saba, appunto dove ci sono i 16.000 metri quadri, che potete osservare tutto attorno a me, di piantumazioni tradizionali, 70% robusti e 30% piante tradizionali della nostra area. Abbiamo lasciato più a monte un pezzo di incolto che potrebbe servire, anzi, l'intenzione dell'amministrazione è quella di realizzare, visto che c'è un bando regionale a sostegno del progetto, gli otti cittadini da mettere a disposizione dei pensionati piuttosto di chi ne farà la richiesta. Questo è un progetto futuro che andremo a sviluppare appena possibile. Diciamo che comunque questa è una bella macchia di verde che verrà messa a disposizione di tutta la cittadinanza, in quanto sarà una fonte di ossigeno che andrà a favore di tutti i nostri cittadini di tutta Biategrasso. Allora, adesso mi sono girato, abbiamo dall'altra parte della strada tutta una piantumazione e come potete vedere qua siamo in zona Cascina-Vismara e servirà anche un po' per mitigare la strada che è stata fatta di collegamento con Ozzero e con Biategrasso e servirà a mitigare un po' questa strada, come dicevo, dalla visuale che avranno dalla Cascina-Vismara i residenti. Questo, come dicevo prima, sono 16 millimetri quadri, sono 2660 piantumazioni che abbiamo effettuato ed è la zona più grande che abbiamo piantumato. C'è un'altra zona che andremo a vedere adesso che è nell'area di Via Legiotto in crocio con Via Novara, praticamente dove c'è la rotonda e questo è in periferia, quello invece possiamo dire che è già nella zona semicentrale di Biategrasso. Allora, qua ci troviamo nell'ultimo più punto piantumato che poi non è l'ultimo ma è stato il primo ad essere piantumato nella primavera del 2023. Qua abbiamo già la possibilità di vedere quelle che sono le piante attecchite e quelle che non sono attecchite e che verranno poi sostituite. Ci troviamo tra questa striscia e la parte rettrostante a questa casa, su una superficie anche qua di circa 4.000 metri quadri, dove sono state messe a rimuola un migliaio di piante. Un migliaio conservando le piante già preesistenti che sono comunque di medio fusto, medio basso fusto e anche qua il 70% è composto da arbusti e il 30% di piante tipiche delle nostre zone in modo che possano attecchire bene ed avere una buona crescita. Anche qua verranno seguite poi da Ersaf che provvederà a sostituire quelle morte. Qua se vedete stanno già mettendo le nuove foglie di quest'anno, per cui questa sicuramente non è morta, quella nemmeno, qualcuna morte c'è in giro, ma torno a ripetere, provvederemo alla loro sostituzione. È con orgoglio comunque che con l'ufficio ambiente, col parco del Ticino, con Ersaf abbiamo realizzato questi 30.000 metri quadri circa di piantumazioni che ad Abbiate Grasso non sono mai state piantumate su una superficie così ampia e in così tante zone e che ci garantirà nel prossimo futuro quando saranno cresciute un polmone, come dicevo prima, di ossigeno a disposizione di tutta la cittadinanza. Per cui abbiamo in programma tutta una serie di iniziative ambientali ed ecologiche, questa è la prima, nei prossimi anni svilupperemo le altre. Sicuramente non sarà neanche l'ultima questa piantumazione. Grazie a tutti per l'attenzione e buona giornata.